Allora siamo con Stefano Minelli nel post gara un commento sulla partita primo e secondo tempo ma diciamo che oggi ci sono stati ci sono stati molto bravi il primo tempo eravamo contro contro vento e ci sono stati bravi a giocare sempre palla mentre secondo eravamo a favore di vento e infatti anche qualche rinvio è andato fin troppo anche lungo però ci sono stati bravi a gestire la partita l'abbiamo bloccata da un calcio piazzato e poi ci sono stati bravi anche loro hanno battuto diversi calci piazzati abbiamo non l'hanno quasi praticamente mai presa hanno avuto solo una mezza occasione cioè un'occasione limpida che che non è servito un intervento non so neanche sinceramente se ci arrivavo ma Juan ha fatto un intervento straordinario. Come è stato scendere in campo dopo un po di tempo? Avevo avevo una gran voglia di scendere in campo ecco ero venuto sono venuto qua per questo e comunque ero tranquillo ho la fortuna di avere tante partite quindi un po di esperienza ce l'ho penso e ero tranquillo poi col passare più dei minuti mi trovavo sempre a mio agio e devo ringraziare anche la squadra perché mi sentivo mi sentivo proprio sicuro avevo un senso di sicurezza che che me la trasmettevano i miei compagni. A chi dedichi questa partita e questa vittoria? Sicuramente la dedichiamo a Pasquale e anche al mister perché sì il campo è importante ma la vita purtroppo è dura alcune volte quindi io lo so benissimo sulla mia pelle che ci sono passato in alcune situazioni e purtroppo siamo tutti con loro e dedichi alla vittoria loro che oggi è stata proprio di sacrificio e ora dobbiamo lottare tutti insieme sì diciamo che che quest'ultimo anno è stato un anno un po strano perché mi ricordo quando quando venivo a giocare qua comunque c'era quasi sempre la curva piena e qualche emozione te te la dava anche l'avversario comunque li sentivi lì dietro è una bella curva era è una bella curva in serie B quindi immagino in serie C penso che che ce ne sono un gran poche così e oggi è una situazione un po un po più strana speriamo di tornare presto alla normalità perché perché anche brutto giocare giocare così senza senza tifosi e ecco oggi ero tranquillo magari quei tifosi ero un po più ansia però sicuramente se avevamo i tifosi quest'anno qua a qualche punto in più penso una piazza come perugia qualche punto in più l'aveva serve serve continuità ora ora diciamo che non dipende solo da noi cioè noi dobbiamo cercare di far più punti possibili è ovvio che qualche partita adesso devono sbagliare anche loro perché perché sono avanti però noi dobbiamo dobbiamo continuare con lo spirito di oggi che ci toglieremo soddisfazioni se poi non sarà quello di arrivare primi che non ci dobbiamo nascondere l'obiettivo se non lo raggiungiamo abbiamo la fortuna di di poterci riprovare per riprovarci anche conta tantissimo secondo me che ci sono passato l'anno scorso anche da come ci arrivi cioè le posizioni in classifica sono molto importanti ecco